Questo gesto apparenta questo ignobile personaggio alle abitudini, alle consuetudini lesive dei nazifascisti, quindi confidando nell'anonimato, confidando che non sarà punita, sebbene sarà condannata da tutti gli onesti. E' preoccupato dopo che c'è stato anche il caso di Mondovì? E' analogamente ci sono questi fenomeni degenerativi che fanno parte della società, la società non è fatta soltanto di persone per bene, ma ci sono anche quelli che sono così abituati alle perversioni politiche, alle visioni nostalgiche di regimi che hanno offeso l'onore e il destino dell'Italia, capisci? Che hanno degradato il nostro paese, che è in via di riscatto fedele ai valori della Costituzione, che è una garanzia di democrazia. Grazie